Con il regista Corrado Ceron per presentare il suo film L'invenzione di noi due al cinema da giovedì 18 luglio 2024, ben trovato. Grazie a tutti e buongiorno. Cos'hai raccontato? Un film d'amore, un amore che è costruito con la pazienza, è costruito con la dedizione, con il secreticio. I due protagonisti si sentono dei predestinati all'amore, ma in realtà dopo andranno a sbattere proprio la testa contro un muro, il muro dei problemi quotidiani, il muro delle azioni irrisolte, il muro di una maternità non arrivata. Insomma, e altri problemi, il tempo che passa, loro che non sono più come erano conosciuti. E quindi, diciamo, questo amore pian piano diventa cenere, come dice poi Bussola nel suo romanzo. Come nasce tutto? Nasce da un progetto che la produzione Kpiu di Verona mi ha affidato su commissione dopo aver realizzato il primo film sempre con loro. E c'era già un adattamento del romanzo di Bussola, erano già la quarta stesura di sceneggiatura. Io poi l'ho fatto adattare perché comunque volevo che fosse non solo un film su commissione, ma un qualcosa di mio, di personale. E quindi l'abbiamo riscritto varie volte, prima di dare sul set. Era una storia che io mai avrei pensato di girare, però oltre all'amore ci sono molti altri temi, come anche la scrittura, la letteratura, come modo di nascondersi per rivelarsi. C'è il confine tra l'arte e la finzione, la finzione e la realtà. E quindi ho visto che comunque è un film complesso, a strati. E allora ho deciso di coinvolgermi e di cercare di farlo. I luoghi che importanza hanno? I luoghi hanno molta importanza. È un film quasi tutto di interni, cioè il 60% del film è ambientato nella casa dei protagonisti, ma anche qui la casa diventa il loro ambiente. Non è abitazione, è proprio una casa, perché l'hanno costruita con la loro vita arredata, con il loro amore. La casa è cresciuta con loro, è come se fosse una proiezione del loro rapporto e poi muta, si cambia attraverso il cambiamento del loro rapporto. Comincia a svuotarsi a un certo punto, quando la storia sta per finire, il mobilio comincia a impolverarsi e diventa quasi deserta alla fine quando Nadia se ne va. E quindi posso dire che la casa è una proiezione quasi esteriore degli umori dei protagonisti. E poi c'è Verona. All'esterno abbiamo girato tutto il film a Verona e anche qui la Verona che vediamo fa da cornice a questa storia d'amore. Storicamente Verona è la città di Romè e Giulietta, quindi era perfetta per raccontare una storia di sentimenti. Anche se ho cercato di non rendere Verona troppo da cartolina, ma cercare anche quegli scorci un po' più inediti, meno turistici. Abbiamo girato Sant'Eno, abbiamo girato Castelvecchio, che sono zone un po' ai margini del centro, meno battute ecco. Ed è una città impalpabile quasi, quasi soggettiva, come se fosse anche questa un'esterializzazione dei sentimenti, soprattutto di Milo. Quindi ecco, siamo una città psicologica. Com'è stata la scelta dei tuoi interpreti, soprattutto l'uomo e la donna, i protagonisti? E poi com'è stato lavorare con loro? La scelta di Silvia è stata naturale, è il terzo film Silvia che fa con la produzione con K+, e il secondo con Mero, ho già lavorato in Acqua e Anice. Quindi ci è sembrata la scelta più giusta. Invece Lino Guanciale me l'ha proposta la produzione e mi è andato subito bene, nel senso che è stata la mia prima scelta assieme a loro. E quindi fin da subito abbiamo visto Silvia e Lino come Nadia e Milo, ricostruendo le varie stesure di Scenegiatura in base al loro editor role. Io di solito lavoro assieme agli attori proprio per costruire le scene e sia Silvia che Lino non si limitavano solo al fattore recitazione o personaggio, ma sono riuscito a spiegare loro nei primi giorni lo stile che volevo dare, la poetica del film, insomma come volevo girarlo, con che tecnica eccetera. Quindi loro avevano una visione completa anche della regia che volevo dare e così mi hanno aiutato molto. Perché se un attore conosce gli intensi proprio del regista, il modo di mettere in scena eccetera, è già metà film e fatto. E quindi anche quando ero in difficoltà mi hanno sostenuto, hanno portato avanti anche, ho difeso anche quello che volevo forse il mio stile e mi sono trovato molto bene. Tra l'altro è un film molto difficile da recitare perché è un film d'amore con dei dialoghi che possono oltrepassare un po' la linea e diventare stucchevoli. In realtà loro li hanno resi molto molto credibili e non era semplice. E il titolo? Per me una storia d'amore finisce quando noi smettiamo di raccontarci storie, quando noi smettiamo di raccontare delle storie di noi stessi all'altra persona, quando smettiamo di reinventarci. Ecco, quando questo finisce allora la storia diventa stanca e ci stacchiamo. L'invenzione di noi due è una vera e propria reinvenzione, è quando Milo riprende in mano i fili della loro storia d'amore che si sta dissolvendo e cerca di combattere affinché non perda Nadia. E quindi deve inventarsi un'invenzione di sé, nuova, per far rinnamorare tua moglie. In quante sale sarà? Dovrebbe essere in 180 sale, quindi parecchie. Il film è l'invenzione di noi due al cinema da giovedì 18 luglio 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Corrado Ceronna. A presto! Grazie a tutti, a presto!